Sindaco Dezzotti, oggi una giornata cruciale, importantissima, storica per la città di Jesolo, ma non solo, con la sottoscrizione di questo accordo di programma per la realizzazione di un'opera attesa da tanti anni. Direi proprio di sì, una giornata epocale, oggi giunge a un passo fondamentale che ci prospetta finalmente la possibilità di avviare l'opera, questo che è un obiettivo condiviso da tutte le amministrazioni, da quattro sindaci, da amministrazioni di vario colore, un tema rimasto sempre prioritario per tutta la città che è appunto quella di completare la viabilità di accesso della via del mare con la bretella verso est, che abbiamo stimato, questi sono i calcoli, può contribuire a distogliere fino a un 30% di veicoli che oggi invece vengono riversati sulla via Roma Destra, sulla viabilità verso il Picchi e verso Cavallino, portandola appunto verso l'Ido Est, quindi anche una grande opportunità per la parte del territorio della Pineta, di Cortellazzo, di Piazza Milano e di Piazza Torino, di avere nuovi flussi e un miglioramento globale della accessibilità verso Jesolo, che ripeto non è semplicemente fare e banalmente una strada per i turisti, sicuramente è anche questo, ma è l'apertura di un intero territorio verso il Veneto e verso l'Europa. Grazie a tutti.